Buonasera, un'altra giornata segnata e molto dai temi internazionali, l'offensiva terrorista, i guai e gli errori delle autorità della Polizia Belga che ha rilasciato quel reporter che era stato indicato come il terzo uomo, uomo del cappello dell'aeroporto internazionale di Bruxelles. Non era lui a quanto pare, o perlomeno è stato scarciato, resta l'accusa di terrorismo, ma ora si cerca con nuove immagini chi è quel terzo uomo. È possibile un simile deragliamento rispetto alla strada che aveva imboccato l'indagine? Evidentemente sì, ed emergono altri particolari sconcertanti. Dalla Grecia è arrivata già l'anno scorso l'indicazione dettagliata del fatto che i terroristi, la cellula del Belgio aveva in mano la piantina dell'aeroporto internazionale di Zalantenne. Ma vedremo anche altro, il ruolo che ha giocato il territorio italiano e il ruolo che può aver giocato l'uomo l'Algerino che è stato bloccato 48 ore fa a Salerno. Era solo il falsario che ha garantito documenti più presentabili a tutta la cellula terrorista di Parigi e Bruxelles o è stato qualcosa di più? Vedremo, vedremo dall'interrogatorio che avrà, vedremo dal mandato di cattura internazionale che ancora deve arrivare. Ma andremo a vedere il giorno dopo la terribile strage di Lahore. Sono stati gli stessi talibani pakistani della zona del Punjab pakistano a rivendicare l'azione dicendo abbiamo voluto colpire i cristiani. Hanno colpito soprattutto donne e bambini, come sappiamo. Sono 30 i bambini tra le 72 vittime già accertate e ci sono 360 feriti di cui alcuni gravi. Iniziata una vera e propria spedizione punitiva verso le roccaforti dei talebani, ma intanto resta il terribile atto contro i cristiani di Lahore. E c'è poi da vedere cosa è successo a Palmira, dove come sappiamo con l'appoggio decisivo dei russi l'esercito di Assad, siamo in Siria, è riuscito a liberare la città, patrimonio dell'umanità per il suo meraviglioso sito archeologico dall'occupazione, che durava un anno praticamente, dell'Isis. Isis in fuga quindi e quello è un passaggio che può essere molto importante non solo per la guerra civile siriana, ma è salvo il sito archeologico di Palmira. Ci sono molti danni anche gravi, ma si stima che in cinque anni, se non succederà nulla, se si potrà lavorare accuratamente quel meraviglioso sito tornerà a essere come prima, sarà completamente restaurato. Dall'Egitto nuove notizie sulla indagine riguardante l'uccisione di Regeni, ancora più ampia la collaborazione che viene promessa dalle autorità del Cairo. La nostra inviata ha sentito alcune delle figure chiave dell'inchiesta. E poi andremo in Italia però, perché tutti sanno, ne abbiamo parlato tantissimo, delle elezioni per i sindaci, la gara che è ormai aperta, la scelta che è stata fatta da Torino a Milano, a Bologna, a Roma, a Napoli, da una parte e dall'altra e dall'altra ancora, ma c'è un particolare, nessuno sa ancora quando saranno queste elezioni. Infatti la data non è stata ancora fissata. Perché? Questo è altro, già tra 30 secondi, dai titoli del nostro giornale. Rilasciato il reporter Faisal Shaifu, non ci sono prove che sia lui il terzo terrorista dell'aeroporto, l'uomo col cappello, accanto ai due kamikaze, Ibrahim El-Bakrawi e Najim El-Ashrawi. Per lui resta però l'accusa di terrorismo, è salito a 35 vittime il bilancio degli attentati. Quattro degli oltre 60 feriti sono infatti morti in ospedale. E così la caccia all'uomo riprende, diffuso sul sito della polizia, un video più dettagliato per identificare il terzo componente del comando. Ma restano gli errori di valutazione dell'intelligence belga. Dopo il rilascio di Bakrawi, espulso dalla Turchia, le accuse ai servizi israeliani che avevano allertato su azione all'aeroporto. Della Grecia la notizia è che la polizia di Atene trovò una chiavetta con le mappe dell'aeroporto di Zavantem in un appartamento e informò l'anno scorso i colleghi belgi in vano. Polemiche anche per i passaggi attraverso l'Italia di due dei terroristi coinvolti negli attentati. Mentre è controversa la vicenda dell'Algerino arrestato a Bellizzi vicino a Salerno con l'accusa di far parte di una rete che ha fornito tutti i documenti falsi dei kamikaze di Bruxelles e Parigi. L'uomo che non sapeva di essere ricercato si trova da sabato in carcere. Secondo la polizia belga avrebbe procurato anche il passaporto falso di Salah. Una strage di innocenti, un atto vile, insensato, le parole di condanna di Papa Francesco per la strage di Lahore in Pakistan orientale. Il kamikaze si è fatto esplodere in un parco giochi e i talebani hanno rivendicato la strage di cristiani. Dopo la liberazione di Palmira da parte dell'esercito siriano con l'aiuto determinante dei russici si chiede in che condizioni si trova ora il sito archeologico patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'occupazione da parte dell'ISIS è durata dieci mesi, parte dei reperti è andata distrutta ma gli esperti assicurano tornerà come prima, ma ci vorranno almeno cinque anni. Intanto la cosa più urgente è rimuovere le mine che sono state lasciate dagli uomini del califato. L'unica cosa che sappiamo è che il 17 aprile si voterà per il referendum sulle trivelle. Poi però arriva la partita delle amministrative, la scelta dei sindaci delle grandi città e non solo delle grandi città, sono tutto più di 1300 i comuni in cui si vota. Tutti sono pronti, la campagna elettorale di fatto è già iniziata ma nessuno sa ancora quando si voterà. Non certo un piccolo particolare e ci si chiede, siccome al massimo mancano due mesi e mezzo perché la data non è ancora stata fissata? Buonasera, molti sono i fatti che come vedete si intrecciano alla nuova offensiva terroristica in Europa ma non soltanto in Europa. Innanzitutto però, ancora una volta, gli sconcertanti sviluppi che arrivano dal Belgio dove è stato scarcerato perché non si sa se è o non è lui il terzo uomo l'uomo col cappello della strage all'aeroporto internazionale di Bruxelles il giornalista, il reporter che era stato appunto arrestato con quella gravissima accusa. E ora, non dico che si ricominci da capo ma non si va molto lontano. Rilasciato per mancanza di prove, gli elementi che hanno portato all'arresto del reporter freelance Faisal Shefu non sono sufficienti a supportare la terribile accusa di essere il terzo uomo del commando di Zaventem. Quello che non ha fatto esplodere la bomba più potente, l'uomo col cappello ritratto in foto con i due kamikaze, Brahim El Bakrawi e Najim Lashrawi. Al rilascio dell'uomo sospettato di usare la copertura del giornalismo per reclutare aspiranti giadisti nei campi dei rifugiati a Bruxelles si è arrivati nel primo pomeriggio dopo che, in mattinata, la polizia aveva diffuso per la prima volta il video da cui la foto era stata tratta. Un filmato che mostra il terzetto. Camminano come dei normali passeggeri spingendo il carrello nell'area check-in. Poco dopo sarebbe saltato tutto in aria. A sorpresa la polizia federale ha postato sul proprio sito il video con la richiesta di collaborare al riconoscimento dell'uomo col cappello. Una richiesta apparsa strana perché Sheffu era stato riconosciuto dal tassista che aveva portato il terzetto a Zaventem con un confronto all'americana. L'iniziativa della polizia era stata definita un atto dovuto dalle procedure perché il reporter non collaborava e non aveva autorizzato un testo sul suo DNA. A chiedere il rilascio di Faisal Sheffu, il reporter per tre giorni considerato il terzo uomo del commando di Zaventem è stata la procura generale che ha sede in questo edificio e proprio qui la notte tra il 24 e il 25 di marzo Faisal Sheffu era stato fermato. Si trovava in un'auto posteggiata in compagnia di altri due amici. È stato invece convalidato l'arresto di tre uomini fermati tra Bruxelles e Anversa nello stesso giorno della cattura di Sheffu. Sono tutti e tre accusati di partecipazione ad azione terroristica anche se i due intercettati a Saint-Gilles e Scarbeck sarebbero collegati alla preparazione di un attentato che avrebbe dovuto colpire in Francia e per il quale è stato arrestato a Vermeille, Reda Criquet e a Rotterdam un altro uomo senza cognome, Anis B. Tutti presi in operazioni che disegnano una mappa che al momento passa per Francia, Olanda, Belgio, Italia, dove nel Salernitano è stato arrestato l'algerino Gimale Dinuali. Nel giorno che ha visto ripartire la caccia al terzo uomo è salito a 35 di cui 28 identificate il numero delle vittime. Non ce l'hanno fatta 4 degli oltre 60 feriti ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali cittadini. Ma insomma, il fatto che sia stato scarcerato quell'uomo che era indicato come la figura chiave perché l'unico ancora arrestato in vita del comando sia alla metropolitana sia, nel suo caso, all'aeroporto ripone in primo piano i dubbi e le accuse sulla incapacità perché non si può definire diversamente delle forze di sicurezza belghe. Tanto più che oggi non è questo l'unico elemento sconcertante che emerge. È lui o non è lui il terzo uomo, il mancato kamikaze all'aeroporto di Bruxelles? Nel dubbio, lasciamolo andare. Può apparire surreale, ma questo è quel che accade in queste ore in Belgio con in più il principale giornale del paese, Le Suar, che si ostina, appoggiandosi a sue fonti, a sostenere è il giornalista Faisal Sheffu, la persona mostrata dalle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto. Sarebbe stato ripreso da altre telecamere nelle vicinanze della stazione di Maelbeck e notato da poliziotti. Senza contare, anche se non fosse lui, che Faisal resta comunque incriminato di attività terroristiche, in particolare di reclutamento, e forse una qualche maniera per trattenerlo avrebbero anche potuto trovarla. Ma questo è il Belgio e la verità è che le indagini dopo gli attentati del Bataclan, in seguito all'arresto di Salah e agli attentati dell'aeroporto e del metro, evidenziano, ancora una volta, l'approssimazione e la scarsa affidabilità delle procedure della Polizia Federale. Simili gaffi, ingenuità, clamorosi formalismi, senza assenza del sistema giudiziario belga, erano già venuti alla luce ai tempi dell'inchiesta su Marc Dutroux, il mostro di Marsinel, ma col terrorismo jihadista, le contraddizioni e l'inefficienza sembrano risplose con più forza. Un apparato di polizia che va nel panico, come dimostra il collasso nelle ore dell'emergenza di Astrid, ed il sistema di comunicazione delle forze dell'ordine, che si sono mantenute in contatto con Whatsapp. Un apparato giudiziario approssimativo, ostaggio dell'irresponsabilità personale, se è vero che l'ufficiale di collegamento belga di Istanbul ritardò e forse o mise del tutto di avvisare i capi di Bruxelles che la Turchia aveva arrestato ed espulso Ibrahim El Bakrui, uno dei due fratelli kamikaze di Zaventem. Non solo, se nei giorni passati i servizi di sicurezza israeliani avevano criticato i colleghi belgi che avevano allertato di imminenti attentati all'aeroporto, oggi le lacune degli investigatori brussellesi sono evidenziate da una TV greca che riporta nel gennaio del 2015 la polizia greca trovò una chiavetta USB con disegni e mappe dell'aeroporto di Zaventem in un appartamento di Atene. Fu proprio la polizia belga ad indicare l'appartamento dove cercavano Abdelhamid Abaoud che si rivelerà l'organizzatore degli attentati di Parigi, ucciso nel blitz, nel covo jihadista di Saint-Denis. Dei quattro arrestati, in quell'appartamento uno fu estradato in Belgio e tre rilasciati. Uno dei liberati si rivelerà essere, secondo i media greci, Reda Cricket, il francese di 34 anni, arrestato giovedì in un sobborgo di Parigi con l'accusa di star pianificando attacchi terroristici. Insomma, gli attentatori li avevano individuati. Si trattava solo di non lasciarsi di scappare. Come ormai sappiamo due dei terroristi di cui si è più parlato il Bacraoui e Salah c'è due componenti essenziali della cellula che ha compiuto gli attentati di Parigi e di Bruxelles dopo averli pianificati sono passati dall'Italia e le polemiche a questo riguardo saranno infinite perché si intrecciano con la politica e con le accuse reciproche che si fanno retrospettivamente in quest'anno nell'anno che è anche elettorale. Quindi cerchiamo di separare quello che deve preoccupare il Paese con quello che fa dividere le forze politiche un po' strumentalmente. E partiamo da una cosa sicura che è stato arrestato l'altro ieri vicino a Salerno un algerino che è accusato come minimo di essere un falsario di documenti di cui hanno beneficiato anche gli uomini delle cellule di Parigi e Bruxelles. Ma a quanto pare a quanto dicono gli inquirenti potrebbe essere una figura di maggior rilievo. Da due giorni gli uomini della Digos e dell'antiterrorismo sono a caccia di indizi ed elementi utili su quest'uomo. Arrestato sabato a Bellizzi provincia di Salerno Jamal Eddin Wali 40 anni algerino. Chi sta indagando dice che sono state trovate tracce utili è un arresto di rilievo ci conferma una fonte dell'antiterrorismo. Nel mandato di cattura europeo emesso dalle autorità belghe il 26 dicembre 2015 a Wali vengono contestati quattro articoli del codice penale relativi all'associazione per delinquere con finalità di terrorismo e falsificazione di documenti dalle carte di identità ai passaporti. False identità che avrebbe fornito anche a personaggi di primo piano degli attentati da Salab de Slam a uno dei kamikaze dell'aeroporto. Il volto di Wali è stato ripreso da una telecamera mentre usciva da un covo di Bruxelles dove lo scorso ottobre sono stati trovati centinaia di documenti falsi. Lui però probabilmente non sapeva di essere ricercato per questo qualche giorno fa si è presentato nell'ufficio immigrazione di Salerno per chiedere il permesso di soggiorno. In mano solo un certificato rilasciato dall'ambasciata di Algeria. Immediate sono partite le verifiche e così si è arrivati al fermo già convalidato in arresto ieri dal giudice. Venerdì ci sarà l'udienza per la sua estradizione in Belgio. Fino ad ora Wali si è avvalso della facoltà di non rispondere anche se in carcere dove è in isolamento nega non sono un terrorista. Domani però in Italia arriveranno tutti i documenti a suo carico e allora si potrà davvero capire qual è stato fino ad ora il suo ruolo. Dalle indagini della nostra polizia poi si potrà aggiungere un altro tassello capire perché Wali fosse fuggito dal Belgio ma soprattutto perché fosse in Italia. Intorno a Salerno vivono stabilmente molti amici e parenti forse solo un luogo sicuro dove nascondersi o forse no forse aveva in mente altro. Sta di fatto però che tutta questa offensiva e tutta questa rete terrorista e ci preoccupa perché insiste sull'Europa e anche come abbiamo visto sia pure per ora marginalmente sul nostro paese ma va a bruciare letteralmente una porzione di territorio che va dal Nord Africa fino all'Asia fino alla parte estrema quasi dell'Asia. Ieri la notizia terribile della strage di Lahore la strage di Cristiani come subito è stata definita non soltanto dagli osservatori o dai titoli dei giornali ma dagli stessi attentatori. La rappresaglia del governo pakistano non si è fatta attendere 50 sospetti fermati nelle ultime ore tra questi anche tre fratelli del kamikaze identificato che ieri si è fatto esplodere in un parco giochi alla ora il corpo speciale federale dei Rangers ha ottenuto poteri speciali per condurre un'operazione antiterrorismo in tutto lo stato del Punjab con 5 blitz che hanno portato ad arresti e sequestri di armi il pugno duro dell'esercito di Sharif arriva sia per le dimensioni dell'attentato 70 vittime di cui 50 cristiani e 30 bambini sia per la rivendicazione ieri sera dei talibani di Jamatul Harar una fazione in ascesa che cerca sostegno e seguito per consolidarsi nella regione anche se analisti locali invitano a non escludere il contesto politico proprio ieri infatti scadeva l'ultimatum terrorista al governo locale per ritirare una nuova legge sui diritti delle donne osteggiata da una trentina di formazioni integraliste il kamikaze si è fatto esplodere nell'area destinata ai giochi dei bambini e nel grande parco i guslana e iqbal di Lahore mentre molte famiglie della minoranza cristiana festeggiavano la Pasqua i feriti sono più di 360 tanti quelli gravi e dunque il bilancio finale delle vittime è destinato a salire oggi è stato il primo di tre giorni di lutto a Lahore la seconda città pakistana 11 milioni di abitanti si sono celebrati i primi funerali mentre scuole e negozi sono rimasti chiusi il primo ministro Sharif ha raggiunto gli ospedali per visitare i superstiti dell'attentato la strage di ieri conferma ancora una volta come le comunità cristiane in tutto il mondo siano sempre più l'obiettivo dell'intolleranza religiosa secondo i dati più aggiornati del 2015 sono stati uccisi 7100 fedeli cristiani contro i 4300 dell'anno precedente più che raddoppiate le chiese distrutte da 1060 a 2400 e oggi dopo l'Angelus a piazza San Pietro Papa Francesco ha per prima cosa ricordato le vittime pakistane ieri nel Pakistan centrale la Santa Pasqua è stata insanguinata da un esecrabile attentato che ha fatto strage di tante persone innocenti per la maggior parte famiglie della minoranza cristiana desidero manifestare la mia vicinanza a quanti sono stati colpiti da questo crimine vile e insensato la ora è lontanissima ma è il punto estremo almeno finora è di quello che alla fine degli anni 70 già il massimo esperto politico americano di politica internazionale Sbigniew Georginski aveva definito l'arco della crisi e oggi come allora quest'arco lo possiamo vedere dalla cartina che abbiamo preparato proprio a questo riguardo è tutto attivo vedete sulla sinistra la Tunisia dove ci sono stati gli attentati del Bardo e poi della spiaggia lo ricorderete quel terrorista con il mitra in mano c'è la Libia ed è inutile che aggiunga qualcosa in queste ore tenta in vano il premier del governo di accordo nazionale di arrivare a Tripoli non riesce neanche ad atterrare nella capitale col suo aereo perché le milizie le bande della capitale stessa non lo vogliono neanche far arrivare poi c'è l'Egitto l'Egitto di cui sappiamo tutto quello che è successo e che ci riguarda anche per la vicenda Regeni di cui parleremo dopo e poi si va avanti tra poco vedremo la Siria perché è stata liberata Palmira ma sappiamo che la Siria è stata l'epicentro di tante cose che sono successe e che ha avuto quella guerra civile come effetto collaterale anche la grande fuga della popolazione civile e poi l'Iraq che forse dal punto di vista dell'inizio di questa nuova fase di crisi è stata la causa principale con quella guerra dall'esito sciagurato perché poi ha lasciato tutte le piaghe più gravi e anzi più grandi di prima e poi l'Iran che è diventata una potenza regionale e in mezzo in bianco tra l'Iran e il Pakistan colpito ieri appunto dal gravissimo attentato di Lahore c'è pur sempre l'Afghanistan una delle cause iniziali come si fa del grande scontro sotto staccato da quello che sembra il disegno di un arco della crisi c'è lo Yemen dove un'altra grave guerra civile ha portato a un impegno diretto anche del grande attore silente della scena araba cioè l'Arabia Saudita come vedete tutto insieme e uno dei campi principali è proprio la Siria ma ieri e nei giorni scorsi in Siria è venuto un fatto importante del tutto cacciata via da Palmira l'Isis Palmira risorgerà sottratta due giorni fa al controllo durato dieci mesi degli jihadisti dell'Isis dalle forze governative siriane col supporto dell'aviazione militare russa la città che ospita il sito archeologico di epoca romana riconosciuta dall'unesco patrimonio dell'umanità sarà completamente restaurata l'operazione sarà complessa costosa e a detta del capo delle antichità e dei musei siriani Abdul Karim richiederà almeno cinque anni l'80% delle rovine è in buone condizioni precisa e abbiamo personale qualificato conoscenza e studi con l'approvazione dell'unesco possiamo cominciare il lavoro nel giro di un anno ma prima ancora servirà un intervento capillare di sminamento lungo il chilometro e mezzo di colonnato che circonda la cittadella e al suo interno infatti l'Isis ha disseminato migliaia di trappole esplosive Mosca invierà a Palmira squadre di artificieri robot e mezzi specializzati già a partire da questa settimana annuncia il capo di stato maggiore russo Gerasimov la Russia sarà certamente coinvolta nel processo di ricostruzione e restauro dei monumenti assicura il rappresentante presidenziale per la cooperazione culturale Svitkoi sfregiata dalla furia iconoclasta degli uomini in nero dunque la sposa del deserto è questo il nome in arabo dell'area archeologica tornerà al suo antico splendore ed ecco ciò che resta di statue e bassorilievi fino al maggio scorso esposti nel museo e poi distrutti essi che hanno fatto saltare in aria templi una decina di tombe antiche e un arco trionfale ora che Palmira è libera il pensiero torna all'83enne Khaled al-Assad storico direttore dell'antico museo rapito nel luglio scorso dai militanti dell'ISIS e torturato ripetutamente per essersi rifiutato di rivelare dove erano nascoste preziose opere d'arte il 18 agosto Khaled è stato ucciso proprio di fronte al museo il suo corpo decapitato è stato appeso a una colonna per onorarne la memoria il direttore dell'ermitage Piotrowski ha offerto l'aiuto del museo di San Pietroburgo per valutare i danni del museo di Palmira e stilare un progetto di restauro un altro tipo di aiuto da parte della Russia accanto alla Russia accanto alla Russia ci sono i uomini di Assad e accanto alla Russia ovviamente impegnata con il suo esercito ma svincolata secondo un piano di ritiro che evidentemente Putin ha inteso molto molto elastico ed è stato decisivo il ruolo dei russi per la liberazione di Palmira e questo è sicuramente un passo che è stato decisivo ma ci sono altri paesi che sono fondamentali della regione vedevamo prima la carta accanto alla Siria e Israele accanto Israele che è un altro focolaio di tutte le tensioni del Medio Oriente sin dagli anni 40 ma accanto c'è anche l'Egitto che ha vissuto come sappiamo quel vero e proprio colpo di Stato poi suffragato dal voto popolare che ha portato il Sisi al potere e con il generale del Sisi ha aperto un nostro contenzioso l'Italia vuole la verità su Regeni oggi dei veri passi in avanti l'inviata il ministero dell'interno egiziano esclude che i 5 rapinatori annientati dalla polizia giovedì siano gli assassini di Giulio Regeni ma quell'operazione porta ad allargare le indagini sull'omicidio del ricercatore erano criminali veri feroci ci ha detto Davide Castradori il consulente petrolifero milanese al Cairo da 12 anni che il 15 febbraio dopo essere stato sequestrato interrogato con metodi violenti per due ore da uomini dotati di tesserini della polizia è stato costretto a prelevare in banca 10 mila dollari sotto l'occhio della telecamera dell'HSBC il ritrovamento degli effetti di Regeni in casa della capobanda non è la fine delle indagini ma all'inizio c'è la massima cooperazione con la squadra di inquirenti italiani abbiamo avuto otto incontri con loro sono andati per due volte a fare sovralluoghi nel posto in cui è stato ritrovato il corpo gli italiani volevano fare le indagini insieme alla polizia egiziana non essere informati di quello che la polizia egiziana aveva fatto non accetto che lei dica queste cose non c'è un motivo perché io debba raccontare il falso teniamo molto a risolvere il caso gli sforzi proseguono del resto anche in Italia ci sono omicidi risolti questo è un caso difficilissimo ma stiamo facendo l'impossibile per trovare i colpevoli non è solo il generale El Haq a promettere un rinnovato impegno poco fa il procuratore generale del Cairo Sadek ha telefonato al capo della procura di Roma Pignatone per annunciargli collaborazione piena e finalmente concreta il 5 aprile quando la polizia egiziana incontrerà a Roma i colleghi italiani porterà per condividerli tutti i documenti dell'indagine e in Italia in Italia ovviamente la politica si è fermata per Pasqua ma già domani riprendono colpi alti e bassi in vista delle amministrative prima ancora del referendum del 17 aprile quello che viene definito il referendum sulle trivelle anche se un po' impropriamente ne abbiamo già parlato e ne riparleremo ma l'occhio di tutti è attento soprattutto a quello che succederà per il voto nelle città nelle grandi città il voto per i sindaci da tempo ne parliamo sapete le candidature le contrapposizioni ma è una scena caschiana perché non c'è ancora l'elemento essenziale di quelle elezioni la data i candidati sindaci sono ormai schierati i sondaggi ufficiali e segreti impazzano le campagne elettorali con o senza guru sono in corso senza esclusione di colpi peccato ma anche una cosa non da poco la data a tutt'oggi infatti nessuno sa con certezza quando si terranno le amministrative 2016 quando voteranno i 1371 comuni coinvolti in questa tornata il governo che deve stabilirlo non ancora deciso e la cosa ha fatto arrabbiare non poco i capigruppo delle opposizioni tutte 5 Stelle Lega Forza Italia SEL Fratelli d'Italia circa due settimane fa hanno anche scritto una lettera per chiedere al ministro dell'interno Alfano di fissare al più presto la data ma non hanno mai avuto risposta lamentano niente a quanto mi risulta dice oggi il leghista Fedriga e negli ultimi giorni gli stessi candidati in testa Giorgia Meloni hanno cominciato a polemizzare non è normale che ancora non si sappia protestano in realtà in zona PD molti danno per scontato che il giorno delle sfide sarà il 5 giugno anche le primarie le abbiamo tarate su quella previsione osserve il renziano David Ermini responsabile giustizia nella segreteria del PD ma allora perché non si è mai riunito il consiglio dei ministri che deve decretare la data lo staff del ministro dell'interno si limita a riferire che non c'è ancora la decisione e l'ufficio stampa del Viminale si limita a ricordare i contenuti della legge il primo turno si deve tenere fra il 15 aprile e il 15 giugno la data deve essere stabilita con 55 giorni di anticipo i dubbi tutti i politici affiorano invece solo grattando un pochino la superficie c'è uno scontro Roma-Milano spiegano fonti parlamentari del PD Roma vuole votare il più tardi possibile Milano il più presto possibile ma poi c'è il fattore estate se si votasse il 12 giugno come si diceva nei primi tempi i ballottaggi sarebbero il 26 un po' troppo a ridosso delle vacanze il 15 maggio altra data di cui si era parlato è invece ormai impossibile fuori dai 55 giorni restano dunque il 29 maggio il 5 e il 12 giugno e molti conti da fare sull'astensione a chi convenga un astensionismo forte anche da questi ragionamenti passano le scelte di Renzi che questa settimana è fuori gioco perché in visita negli Stati Uniti sarà comunque lui appassionato dei last minute a decidere tre nomi Donatella Campus Carlo Freccero Giovanni Orsina chi sono? ovviamente gli ospiti a 8 e mezzo di Lilligruber noi ci fermiamo chiudiamo con le borse quelle europee chiuse perché per Pasquetta sono da sempre chiuse invece è aperta Wall Street è stata aperta anche Tokyo che ha chiuso in positivo è in positivo leggermente anche Wall Street Dow Jones più 0,20 Nasdaq più 0,03 è tutto vi lascio a 8 e mezzo ci vediamo domani buonasera grazie